ciao amici cosa non faremmo per dimagrire i fianchi e i rotolini della schiena io ho provato di tutto ma è difficile ci vuole costanza e strategie furbe il grasso si deposita su schiena e fianchi perché non li usiamo mai per questo oltre al grasso abbiamo anche tessuti flaccidi e poco tonici oggi vediamo quattro trucchetti per dimagrire schiena fianchi e maniglie dell'amore se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video prima di iniziare ecco la regola più importante non sforzare il numero di serie le ripetizioni e la velocità devono essere adatte alla propria forma fisica quello che fa la differenza è fare il movimento bene rimanendo rilassati in questo modo si ottengono risultati altrimenti ci si fa male e basta uno piegamenti in avanti da in piedi con le braccia rilassate abbassarsi in avanti cercando di toccare la punta dei piedi fermarsi al punto dove si riesce non bisogna sforzare fare due o tre serie da dieci piegamenti due piegamenti laterali sempre in piedi appoggiare una mano dietro la testa tenendo il gomito alto e aperto lateralmente stendere l'altro braccio lungo il fianco si può tenere in mano una bottiglietta un piccolo manubrio allungarsi lateralmente verso il basso dal lato in cui si tiene il peso fare una serie da 15 o 20 piegamenti poi invertire le braccia e fare un'altra serie tre flessioni le flessioni aiutano a rinforzare il tronco quindi fanno lavorare tutti i muscoli di schiena fianchi addominali laterali la cosa importante è tenere la schiena ben dritta per facilitare ci si può appoggiare sulle ginocchia invece che sulle punte dei piedi si possono fare due o tre serie di flessioni da 5 fino a 20 a seconda della propria forma fisica 4 alzate con il bacino stendersi sulla schiena con le ginocchia piegate i piedi appoggiati su tutta la pianta i talloni più vicino possibile ai glutei stendere le braccia lungo i fianchi se si riesce si possono afferrare i talloni tenendo le spalle appoggiate a terra i piedi fermi alzare lentamente il bacino fino a che si può tenere la posizione per qualche secondo poi sempre lentamente scendere fino ad appoggiare di nuovo tutta la schiena a terra fare uno o due serie da 5 10 sollevamenti a seconda della propria forma fisica io corro ad allenarmi provate anche voi amici ecco il trucco per un allenamento quotidiano fate uno solo di questi esercizi ogni giorno per 10 minuti cambiate ogni giorno così alternate tutti gli esercizi a rotazione e il corpo si tonifica prima in descrizione c'è il link alla playlist con i video degli esercizi per dimagrire fatti dalla mia amica serena e anche il link alla pagina del mio sito con tutti gli ebook che ho scritto sul dimagrimento io voglio quello per dimagrire i fianchi e maniglie dell'amore e per vedere vecchi e nuovi video iscrivetevi al canale è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto fate questi allenamenti e men che non si dica vi troverete più in forma e tonici vivi consapevole e vivi meglio